Nel tempo delle celebrazioni della festa di liberazione, il ricordo di Vallucciole e della strage delle 109 persone innocenti diventa un valore per la memoria che deve essere tramandata. E a Stia l'amministrazione comunale continua un percorso che porta anche a teatro. In realtà è una stagione di celebrazione, un po' sullo spirito che è sempre stato quello di Prato Vecchio e Stia, di non fermarsi alla singola data ma di creare una sorta di orda lunga del ricordo. Sabato prossimo alle 21.15 al Teatro Comunale di Stia verrà rappresentato lo spettacolo di 108 che è stato creato e pluripremiato da parte della Nata e che racconta molto bene con una ricostruzione storica molto sensibile, molto veritiera, basata sulle testimonianze, quella che è stata la vicenda di questa popolazione. Quindi è veramente un invito a un evento di pregio che racconta questi eventi con delle nuove forme di comunicazioni che sono al di là della retorica e al di là di quelli che sono i linguaggi più cerimoniali che spesso ci rivolgiamo.